Il 2018 è un anno molto importante per Euromobile, in quanto segna il suo ritorno nella classe premium del mercato, grazie ai nuovi Integra, una nuova gamma di motorhome completamente ridisegnata sia esternamente che internamente, per un risultato complessivo che rafforza ancora di più l'alta qualità costruttiva che da sempre caratterizza i prodotti del blasonato marchio tedesco. Una gamma che si compone di tre modelli, il più piccolo il 700EB, un motorhome da 7,16 m con letti gemelli posteriori sopra garage e i due più grandi da 8,99 m, l'8,90QB con letto posteriore centrale e l'8,90EB con letti gemelli posteriori. Tecnologia di alto livello anche per quanto riguarda l'impianto di illuminazione sia interno che esterno, grazie all'adozione di luci full LED sia anteriori che posteriori e internamente regolabili di intensità. Una costruzione di così alto livello è ovviamente basata su fondamenta adeguate a partire dal telaio alco che permette la realizzazione di un doppio pavimento passante all'adozione del riscaldamento con vettori albe, un mezzo quindi che non passa di certo inosservato. In tre sui punti di forza aggiungiamo pure un'altezza esterna di soli 2,92 m. Per passare alla cellula con tutte le dotazioni utili per aumentare il confort di bordo a partire da una piasta telescopica che scende a scomparsa dietro lo schienale del divano laterale e un'interessante predisposizione per la macchinetta del caffè nell'avano cucina. Completamente riconfermata anche la gamma inferiore di motore home l'integra line sia a livello estetico sia a livello di dotazioni presenti sui mezzi di serie. Vediamo però l'ingresso di due nuovi layout entrambi caratterizzati dalla nuova cucina delle, il 695EB con letti gemelli posteriore garage e il 695EB con letto trasversale sopra garage. Due nuovi layout che fanno la loro comparsa anche sulla gamma Profile RS, i semi integrali con letto basculante anteriore. Riconfermata anche la gamma attiva One, una serie di mansardati caratterizzata dal doppio pavimento passante di altezza pari a 38 cm con tutti gli impianti in posizione antigelo. Molto interessanti per il mercato italiano due piantine, gli 6,49 m con lette castello posteriori e l'interessante possibilità di poter richiedere come option un terzo letto e il 6,99m è dotato di garage matrimoniale sovrastante. Tutta la gamma Euromobile ha un minimo comune denominatore, una scocca autoportante senza listelli e viti passanti e un doppio pavimento reale presente sugli interi veicoli.